Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. La politica italiana è avvolta in un velo di tristezza per una scomparsa che ha colpito profondamente il paese. La notizia è giunta pochi minuti fa, lasciando l'Italia intera in uno stato di shock. Per oltre un decennio, questo personaggio ha segnato la storia del Parlamento italiano. Molti lo ricorderanno con affetto e rispetto, ma di chi stiamo parlando? Nino Strano, ex deputato e senatore di destra, è scomparso ieri mattina nella sua città natale, Catania, all'età di 73 anni, dopo una lunga malattia. Strano è soprattutto ricordato per un episodio controverso. Nel gennaio 2008, in occasione della caduta del governo Prodi, celebrò la sfiducia in Senato stappando una bottiglia di spumante e mangiando mortadella in aula, un gesto che suscitò diverse polemiche. In seguito, si scusò per l'episodio, definendolo un semplice atto allegorico. La sua carriera politica aveva preso il via proprio nella sua città di nascita, dove fu eletto nel Consiglio Comunale negli anni 70 tra le file del Movimento Sociale Italiano. Negli anni 90, divenne deputato e assessore alla Regione Sicilia, per poi essere eletto alla Camera con Alleanza Nazionale nel 2001. Nel 2006, ottenne un seggio al Senato, dove rimase tra il 2001 e il 2008, e poi nuovamente tra il 2011 e il 2012, lasciando un'impronta significativa nel suo partito. La sua scomparsa segna la fine di un'era nella politica italiana.